Torna per la sua quarta edizione Eutopia, più saggi con i classici, la rassegna letteraria che dall'8 al 26 marzo intende ridare voci ai classici partendo dalla cultura greca e latina, facendo così dialogare tra loro antichità e contemporaneità. In programma la serie di tre incontri online al via dal 12 marzo sul canale YouTube del sistema bibliotecario di Fano, con nomi di grande elevatura del panorama degli studi classici e filosofici che seguono il filo conduttore scelto quest'anno, ovvero, come recita il sottotitolo, il farmaco della speranza. Abbiamo scelto questo tema naturalmente per collegarci all'attualità e ai problemi che stiamo vivendo e che gli antichi avevano già abbondantemente affrontato. Saranno presenti appunto per dibattere su questo leitmotiv, appunto il tema della speranza, un filosofo Silvano Petrosino che racconterà lo scandalo dell'imprevedibile, pensare l'epidemia, quindi come a partire dalla letteratura, a partire dagli antichi, la peste, la malattia è stata intesa. Ivano Dionigi e Federico Condello parleranno della speranza, del tema della speranza a partire dai grandi classici. Mauro Bonazzi, specialista della filosofia antica, ci racconterà il suo ultimo libro, Creature di un solo giorno, i Greci e il mistero dell'esistenza. Un'iniziativa realizzata dal sistema bibliotecario del comune di Fano assieme al liceo Nolfi Apolloni, i cui ragazzi, sia ex che attuali studenti, hanno realizzato con l'aiuto dei docenti video, podcast, brevi animazioni e vignette, che a partire da oggi, 8 marzo, animeranno i canali Instagram e Facebook sia della Mediateca Montanari che del sistema bibliotecario del comune di Fano. Delle animazioni, dei video animati che avranno appunto ad oggetto centrale la tragedia di Eschilo e quindi il Prometeo incatenato. Dopodiché a questa, diciamo a fare da contraltare, abbiamo pensato anche a una parodia e quindi una serie di vignette che parleranno appunto di Prometeo scatenato. Storie Instagram che appunto permetteranno a chiunque voglia di leggere, come fosse da un libro, traduzioni appunto di testi antichi che hanno proprio ad oggetto la speranza, fino ad arrivare poi a un contenuto ancora più ampio che è quello dei podcast. Utopia è etimologicamente un non luogo. La scuola in questi mesi sta rischiando di essere un non luogo, un luogo che non esiste più fisicamente, in molti casi. Ecco, noi stiamo cercando di trasformare questo non luogo in un bel luogo, perché è utopia, significa proprio bel luogo nella etimologia della parola. Quindi un bel luogo che in qualche modo viene offerto in via virtuale, che ci aprono alla speranza e mai come in questi tempi ne abbiamo un grande bisogno.